Musica Se c'è chi ha ancora dubbi Su cosa fare a mezzanotte per il cenone Sono tutti pronti per Capodanno Vince sulle tavole siciliane Il pesce coniugato come sempre Alla tradizione nostrana Ingenti i sequestri di materiale pirotecnico Ritenuto pericoloso e non conforma Alla normativa vigente In materia arrivano raccomandazioni Dalla guardia di finanza di Ragusa A Catania divieto di esplodere i botti E tempo di bilancio Anche per l'attività più intensa Dell'anno Ovvero l'emergenza e immigrazione Sono 150 gli scappisti arrestati Nelle 2015 Dalla squadra mobile della Questura di Ragusa Il 2015 si chiude a Modica Con diversi interventi di manutenzione Ripristino di impianti e manti stradali Sul posto per i sopralluoghi E per spiegare i dettagli Di quanto fatto il sindaco di Modica Abate Benvenuti a questa nuova edizione Del nostro telegiornale Dunque l'avete sentito dai titoli In apertura ci occupiamo Della pagina dedicata al Capodanno Mancano davvero poche ore Al fine del 2015 E all'inizio del 2016 Ci sono ancora tanti i dubbi Per i siciliani su dove trascorrere Il post mezzanotte Ma se c'è una cosa Che mette tutti d'accordo È proprio il cenone Anche per quest'anno Forse in particolare Quest'anno vince il pesce E il pesce a vincere sulle tavole Per il cenone di Capodanno Dagli antipasti Ai secondi Le tavole dei ragusani Avranno un'alta percentuale Di presenza di pesce Rispetto alla carne Il cenone di Capodanno Si conferma sempre Come una tra le cose imprescindibili Delle festività natalizie E che si trascorra a casa O in ristorante Tutto deve essere perfetto Noi abbiamo parlato Con lo chef Maurizio Barrera Per scoprire alcune varianti Ai menu Che coniugano La tradizione nostrana Alle novità del momento Come antipasto Abbiamo sia a base di pesce Sia del polipo Che dei gamberetti marinati Con della rucola Che abbiamo detto prima Per abbinare i prodotti Del posto E poi abbiamo Dello spada marinato Al prezzemolo E peperosso Come primo Poi abbiamo Delle margherite Una pasta ripiena Che è fatta Con della salsa All'aracosta Rucola E ciliegino Un secondo Che è fatto Da un'onorata Gratinato alle mandorle Da una capesanda In grossa di funghi porcini E come condorno Abbiamo della frutta esotica E se il panettone Non manca mai Ci sono valide varianti Per il dessert Quest'anno abbiamo voluto Pensare di fare Una cosa diversa Molto delicata Una cheesecake Alla frutta Molto semplice E poi c'è un tipo di frutta Un po' esotico Che è l'alkekenji Per proporre qualcosa Di diverso Di più delicato Del solito panettone E pandoro Che va ad appesentire L'intero menu Insomma una serata Dove tutto deve essere impeccabile Per questo In molti Hanno scelto Di affidarsi direttamente Ad esperti del settore Per trascorrere Le prime ore dell'anno In serenità Dopo mezzanotte Che cosa si mangia? Dopo mezzanotte Noi intratteniamo I nostri ospiti Fino a tarda mattinata Con delle broche gelate Con i panettoni Frutta secca Noi chiediamole Diciamole Nelle mattinate Con i cornetti caldi E broche Quindi si mangia Tutto il tempo? Tutto il tempo Sì E come parlavamo poc'anzi Ancora ci sono dubbi Però su che cosa fare Dopo la mezzanotte Sentiamo A casa di amici Casa di amici E dopo mezzanotte Si resta da amici Oppure si va in giro? Si resta da amici Perché abbiamo bambini Sì penso una festa Tutti insieme Perché comunque la casa Non va d'accordo Con tutti Quindi penso che andremo lì Niente rimarrò a casa No siamo in campagna Facciamo un po' di musica Personalmente io Ci divertiamo E a Capodanno non lo so È sempre Un mistero Fino all'ultimo minuto Non ho ne idea Mancano poche ore All'arrivo del 2016 E i dubbi restano C'è chi ha scelto Di trascorrere il Capodanno In compagnia di parenti e amici A casa Chi andrà a qualche festa privata E chi ha scelto Di trascorrere le ore post-mezzanotte Nella piazza della propria città In compagnia di musica e spettacoli Tanti dubbi che ogni anno Trovano come risposta Anche questa Che cosa si farà dopo la mezzanotte? Che cosa è previsto? Personalmente vado a letto E se ancora c'è chi non ha scelto Dove trascorrere la notte Dell'ultimo giorno del 2015 C'è chi ha avuto le idee chiare Su altro L'intimo rosso Per la sera di Capodanno L'intimo di colore rosso È sempre un acquisto Che non manca Nei negozi di intimo Presentato nella tipica vetrina Con richiami al rosso Intimo rosso Si indossa o non si indossa? Certo Scaramantico? No Quindi è di buon auspicio Secondo lei il rosso L'ha sempre utilizzato e è andata bene? Secondo me sì È l'endicchia Si usa È scaramantico? Sì assolutamente Ah è l'ha appena acquistato Quindi porta bene secondo lei? Sì speriamo di sì Certo Porta fortuna Ogni anno? No L'anno scorso mi sono dimenticata È andata male quest'anno allora? È andata bene Ma non importa L'ho comprato lo stesso Perché porta fortuna C'è da dire però che c'è stato qualcuno che ha avuto le idee chiare su che cosa fare prima e dopo la mezzanotte Chi ha scelto di chiudere i bagagli e di partire? Sentiamo Se Caraibi e Crociere restano tra le mete più richieste, l'Europa per quest'anno viene un po' scartata In particolare Parigi L'ombra del terrorismo internazionale ha un po' intimorito i ragusani e non solo Che hanno disdetto diverse prenotazioni alla luce degli attentati terroristici Ma una grossa percentuale ha deciso di non rinunciarci ed è partita lo stesso Quest'anno sarà un Capodanno tra i confini italiani Per molti dalle Alpi allo Stretto Diverse le località scelte Tra queste primeggiano Roma e Torino Quest'anno ha prevalso soprattutto l'Italia e la Sicilia I giovani, piccolini, ventenni, hanno sempre preferito Amsterdam come metà per le loro vacanze di Capodanno Ripresa del mercato Voi la notate? Se sì, quali sono le mete più richieste e che magari da tempo non vendavate? La gente cerca sempre, per quello che può, di partire anche per meno giorni o per destinazioni più vicine La tendenza a viaggiare c'è lo stesso Parlare proprio di una ripresa io non lo so, non direi Lasciando stare il discorso economico, concentriamoci sul terrorismo internazionale Che cosa hai riscontrato? C'è paura tra la gente per quanto riguarda il viaggio di Capodanno? Sì, diciamo di sì Molte persone che avevano prenotato hanno cancellato Non tutti, c'è qualcuno che comunque ha mantenuto Soprattutto le persone che erano rivolte verso Parigi o il resto dell'Europa Quindi sì, una certa paura c'è stata Ci sono state delle cancellazioni, ci sono state persone che avevano fatto i preventivi E che non hanno confermato Però nel senso non che non hanno più viaggiato Nel senso che hanno abbandonato l'Europa come destinazione preferita E a proposito della festività di San Silvestro Nonostante la pioggia è andata bene a Catania La San Silvestro a mare Come ogni fine d'anno che si rispetti Nella nostra città non sono mancati Anche per il 2015 alcuni consueti appuntamenti che piacciono tanto ai catanesi Mentre in Piazza Duomo tutto è pronto per il concerto di questa sera Con Eugenio Bennato Al quale si affiancheranno artisti siciliani Come i Crab, Santorio Manforte, i Babylon Suite Le Malmaritate e i percussionici In città c'è gran fermento per la fine dell'anno Con i catanesi che, nonostante la pioggia di questa mattina Non rinunciano a recarsi a Ognina Per assistere alla tradizionale San Silvestro a mare Giunta alla 56esima edizione La gara internazionale organizzata alla nuoto Catania Con il patrocino del comune Che si svolge nelle acque antistanti Il circolo Canottieri Ionica Coinvolge professionisti appassionati Suddivisi in otto categorie Diversamente abili, donne, under 17 Assoluti, master, under ed over 40 Amatori, under ed over 50 Insomma, anche quest'anno Tradizione rispettata in attesa di un nuovo anno Con la speranza, come si augura anche il sindaco di Catania Che possa portare serenità e benessere ai catanesi Alla nostra città Catania e i catanesi hanno bisogno di un momento di gioia Un momento di serenità Un momento in cui ci togliamo da la mente tutti i pensieri Ma anche un momento di promozione della città Perché abbiamo la città di Catania invasa da migliaia di turisti E moltissimi verranno qui Perché c'è uno spettacolo bello Perché c'è gioia di vivere Perché Catania è una bellissima città Che può ancora essere più bella E insieme naturalmente vorrei rivolgere un messaggio di saluto ai catanesi Di speranza e un invito Catania è di tutti Non ce la fa rimettere in piedi un sindaco da solo o un'amministrazione Ho bisogno che ciascun catanese nel suo piccolo e nel suo grande Faccia qualcosa per tenerla pulita in ordine Questa città E solo così potremo riuscire ad avere una città Che riprende non solo a camminare ma addirittura a correre Ma intanto Un affattuoso sincero augurio Di un anno migliore di quello che abbiamo chiuso In cui una parte dei nostri sogni si possono realizzare E viviamo un momento anche di serenità intenso e piacevole Auguri ai miei concittadini E anche che si trovi a Catania E scopri una città bellissima E a proposito dei festeggiamenti nelle città Capodanno in piazza Matteotti a Modica Il sindaco Ignazio Abate brinderà e offrirà il panettone ai cittadini Questa sera dal cuore del centro storico della città Sarà dato il benvenuto al 2016 con la band Last Minute Band E alle 24 in punto il brindisi al nuovo anno Con gli immancabili fuochi d'artificio che metteranno in archivio così il 2015 E a proposito di fuochi d'artificio La Guardia di Finanza raccomanda particolare attenzione Per chi fa esplodere all'interno delle proprie abitazioni fuochi di artificio Ma nello specifico la Guardia di Finanza di Ragusa Ha sequestrato oltre 200 kg di fuochi pirotecnici Non ritenuti conformi alle normative vigenti in materia Sentiamo La Guardia di Finanza ha sorpreso un vittoriese di 63 anni Mentre stava confezionando per vendergli i botti di Capodanno La sua attività di produzione e confezionamento dei fuochi pirotecnici illegali E quindi altamente pericolosi Era un garage di sua proprietà Sono stati rinvenuti quasi 200 kg di fuochi Oltre 700 pezzi già pronti per la vendita Con l'aggravante che è il materiale sequestrato Rientra nella categoria quinta gruppo C e D Pertanto di una potenzialità elevata Infatti i botti sequestrati al vittoriese Possono essere venduti solo da negozi Con licenza di pubblica sicurezza Esclusivamente ai maggiori di 18 anni Muniti di un valido documento di identità E cecchie corso ai ripari Prevenendo eventuali incidenti con danni irreversibili I sindaci di Ragusa, Federico Piccitto e Dispica Pierenzo Muraglia hanno firmato un'ordinanza del 29 dicembre Con la quale vietano l'utilizzo dei botti Un'iniziativa partita da Catania E poi sostenuta dai primi cittadini di Palermo e Agrigento Le violazioni a quanto disposto saranno punite Con la sanzione amministrativa pecuniaria Da 50 a 500 euro Nella disposizione sindacale ragusana Si raccomanda tra l'altro di non raccogliere Eventuali artifici inesplosi per strada Il sindaco Ispicesa ha rincarato la dose Disponendo il divieto fino al 6 gennaio Sia di accensione che di lancio e sparo di fuochi pirotecnici Petardi, fuochi artificiali e botti in genere Ad eccezione delle attività in possesso Delle previste autorizzazioni su tutto il territorio comunale Sul piede di guerra è l'associazione pirotecnica italiana Che è intervenuta con un atto di diffida A tutti i sindaci che hanno emanato l'ordinanza Ritenendo pericoloso tale provvedimento Che va ad agevolare indirettamente Il mercato sommerso illecito Fatto di prodotti potenzialmente molto pericolosi Tutto questo a danno degli operatori legali Di settore autorizzati Con tanto di licenza prefettizia Che subiscono gravi danni in immagine Ma anche economici Registrando grossi cali nelle vendite L'associazione è pronta ad adire le vie legali Ai fini di esercitori E come abbiamo appena sentito È alta l'attenzione proprio per quanto riguarda I fuochi pirotecnici Per noi Viviana Sanmito ha ascoltato Il comandante della compagnia Della guardia di finanza di Ragusa Sentiamo Sfatiamo un mito Tutti i fuochi pirotecnici Non sono tutti pericolosi Non ci sono fuochi pirici Non pericolosi Anche le stelline Quelle che vengono utilizzate normalmente Con disinvoltura dai bambini Bruciano a temperatura di circa 300 gradi centigradi Quindi sono altamente pericolosi E innescono dei principi di incendio Sui tessuti, sugli abbigliamenti L'uso in cauto di questi giochi È da tenere altamente in considerazione Per i danni che possono provocare Agli arti inferiori Al viso, alla vista, all'udito Noi naturalmente Facciamo tutta una serie di avvertenze Che riguardano L'utilizzo di questi fuochi pirici Innanzitutto devono essere utilizzati Per i bambini piccoli Sempre e comunque Con la supervisione di adulti Che naturalmente Garantiscono delle condizioni di sicurezza Avete fatto anche dei controlli In provincia Per quanto riguarda anche il mercato nero Dove spesso vengono Venduti questi prodotti Che sono confezionati artigianalmente E quindi maggiormente dannosi Sì, le attività poste in essere Hanno riguardato principalmente La ventita in modo ambulante In modo incontrollato Di fuochi pirici Di provenienza orientale Principalmente quelli cinesi Che vengono realizzati Con modalità artigianali Questi sono pericolosissimi Consideri che sul mercato Esiste un tipo di prodotto Che rega normalmente L'etichettatura CE Che è praticamente Il prodotto realizzato All'interno della comunità europea Che garantisce parametri di sicurezza Però questa CE Che vendono I cosiddetti negozi dei cinesi Non è altro che La sigla del Chinese Export Principalmente bisogna effettuare L'acquisto di prodotti pirotecnici Che regano innanzitutto Sulla confezione un'etichetta Naturalmente sull'etichetta Ci sono tutte le indicazioni Che riguardano Il decreto ministeriale Che ne autorizza la vendita Il contenuto La tipologia del prodotto La massa attiva E soprattutto Le norme di utilizzo Del fuoco pirico Quindi nel caso in cui Si effetta l'acquisto Presso ambulanti Senza alcun controllo Sono sanzionati Sia a livello amministrativo Che a livello penale Sia il venditore Che l'acquirente Sin qui i controlli Per quanto riguardano I fuochi pirotecnici Ma c'è un altro aspetto Da sottolineare Per quanto riguarda I controlli I controlli delle strade Portate avanti Dalle forze dell'ordine Che fanno sapere Toleranza zero Controlli H24 In tutto il territorio ragusano Per un fine Inizio anno in sicurezza La polizia stradale Da stamattina Setaccia le arterie urbane E extraurbane Con controlli supportati Dall'uso di alcol test E autovelox Le raccomandazioni Del dirigente provinciale Della polizia stradale Gaetano Di Mauro Sono sempre utili Alla prevenzione Di incidenti stradali La cui causa primaria E l'alta velocità Al di là della notizia Dell'installazione Del dispositivo Che controlla i chilometri Orari sulle strade Ebbene Che ogni automobilista Soprattutto in queste strade Di festa Sia più prudente Del solito Soprattutto se ha bevuto alcol E il consiglio Di fare guidare il veicolo A una persona sobria Condurre il mezzo A una velocità moderata E non superare I limiti previsti Dal codice della strada Usare sempre La cintura di sicurezza E farla indossare Anche i passeggeri seduti Sui sedili posteriori I bambini Massima attenzione ai minori Perché sono loro Che subiscono Maggiore danni In caso di sinistro stradale Il Natale È già stato segnato Da due lutti Simone Alabi Sui 21 anni di come È stata la prima vittima A distanza di poche ore È deceduto Durante il secondo Incidente stradale Il 67enne Evangelista Orecchia Il più giovane Ha perso la vita Dopo una serata In discoteca Guidava l'auto Il suo amico Che guarirà in un mese L'anziano Ispirato Dopo un impatto frontale Violento La polstrata raccomanda dunque Non bere alcol Se si guida Non spingere il peso Sull'acceleratore E indossare sistemi di sicurezza Per un felice inizio Di anno nuovo La polizia di Vittoria E la squadra mobile Sono intervenute Ieri sera In contrada Piombo Al confine Col comune di Ragusa Dopo la segnalazione Di un presunto omicidio Un vittoriese Ha raccontato Di aver saputo Da un suo amico rumeno Che dopo una lite Tra più persone Qualcuno aveva estratto Un'arma Ed esploso alcuni colpi Ferendo un altro rumeno Le indagini hanno consentito A tarda sera Di escludere Che si fosse trattato Di omicidio E neppure che fossero stati Esplosi colpi Di arma da fuoco Le escussioni Di alcune persone Ha portato alla luce Uno spaccato di vita Rurale Che si svolge Tra persone dedicate Alla pastorizia Tra padroni italiani E operai rumeni Tra alcol E liti L'immigrato Che ha raccontato Del presunto omicidio Era in preda Ai fumi Dell'alcol La polizia di Comiso Ha denunciato Due persone Per un furto Ai danni Di un anziano È stata recuperata La refurtiva Del valore Di 450 euro È successo ieri pomeriggio In un bar di Comiso Dove un 58enne Ha dimenticato Il proprio marsupio All'interno di un bar Su uno sgabbello E dopo essere rientrato Non lo ha più trovato Dalla visione Delle immagini interne Sono stati notati Dei particolari interessanti Un 41enne Noto pregiudicato Del posto E un complice Di 45 anni Che si sono Impossessati Del marsupio Nascondendolo sotto il giubbotto All'interno del borsello C'erano quattro Bancomat Di diversi istituti Di credito La batente di guida La carta di identità E altri documenti Dalla carta I ladri Avevano già prelevato 1000 euro In tre diverse banche A Comiso Ieri pomeriggio È stato portato In commissariato Uno dei due malviventi Che era in possesso Di ingenti somme di denaro Di cui non ha saputo Fornire alcuna giustificazione Adesso aveva poi Con sé un coltello Pertanto È stato denunciato Per porto abusivo Di oggetti Atti ad offendere È stato identificato E denunciato Anche il secondo uomo Per furto In concorso L'attività Più intensa Dell'anno 2015 In provincia Di Ragusa Secondo le dichiarazioni Della questura E della prefettura Sicuramente È stata l'immigrazione Sono 150 Gli scapisti Arrestati Durante quest'anno È stato 2015 Segnato Da arrivi Di immigrati Al porto Di Pozzallo Immigrate Che hanno dato Alla luce I propri figli Nel territorio ebleo Che le ha accolte Amorevolmente Immigrati Che hanno perso La vita Durante la traversata Sul canale di Sicilia E immigrati Arrivati senza vita Dentro la stiva E alcuni di loro In terra eblea Sono sepolti Contro il favoreggiamento Dell'immigrazione Clandestina E per i reatti Transnazionali Connessi al fenomeno La squadra La squadra mobile Di Ragusa Impegnata con le altre Forze dell'ordine Ha illustrato Il bilancio Delle attività Che ha tenuto Impegnata quotidianamente La macchina Dell'accoglienza Nel 2014 Erano stati 197 Gli scapisti Fermati Dalla squadra Mobile A Pozzallo Su 131 Sbarchi Nel 2015 Sono 150 Su 62 Sbarchi Il dato è legato Al minor numero Di arrivi Registrato Sulle coste Ibleh Un'operazione Delicata E stata portata a termine Dalla squadra mobile Di Ragusa Che ha individuato I responsabili Del reato Di tratta Di esseri umani Finalizzata La riduzione Schiavitù Per l'emissione Nel circuito Della prostituzione Anche minorile Di donne Nigeriane Le recenti Indagini Con l'operazione Di polizia Denominata Babaloa Hanno permesso Di sottorare Decine di ragazze Spesso minori Alla rete Criminale nigeriana Che sfrutta Le donne Per illeciti Guadagni Nel 2015 Sono stati denunciati Decine di soggetti Che per arricchirsi Lecitamente Hanno fornito Documenti falsi Buste paga E attestati Di fatti E qualità Resistenti Per extracomunitari In attesa Del permesso Di soggiorno Molti professionisti Cosiddetti Colletti bianchi Tra commercialisti E consulenti Del lavoro Indagati Per il reato Di favoreggiamento Dell'emigrazione Clandestina In quanto Sono proprio loro Che ne favoriscono La permanenza In Italia Consegnando Documenti Attestanti Il falso Buste paga E cuda Dimostrazione Di un reddito Inesistente Il giro di affari In provincia Di Ragusa È molto elevato E tuttora Si scende Di documenti Sequestrati Che contengono Importanti elementi A carico Di soggetti Già denunciati Per favoreggiamento Dell'immigrazione Clandestina Ben ritrovati Alla seconda parte Del nostro Telegiornale Il 2015 Si chiude a Modica Con diversi Interventi Di manutenzione In questo servizio Gli ultimi due In ordine di tempo Con l'accensione Dell'illuminazione pubblica Di ieri sera Incontrata Musebbi Calicantone Si completa L'accensione Di tutti quegli impianti Che da anni Erano stati realizzati Ma mai Attivati Nelle varie contrade Rurali di Modica Ieri pomeriggio È stata dunque La volta Della rotatoria Di Musebbi Calicantone Dopo le contrade San Filippo E Crocevie Ancora qualche anno fa Quando ci siamo insediati Neanche il polo commerciale Tutta la parte Del corso Sandro Pertini Non era stato mai acceso E mai in funzione Così come la torre Faro Quindi Anche quella parte Della sorda Il polo commerciale Così centralissima Era senza Con l'impianto Illuminazione in funzione Quindi abbiamo completato Quest'opera Abbiamo dato A questi cittadini Che risiedono In queste contrade Anche questo ulteriore servizio Che è importante Non solo per la sicurezza stradale Ma anche Per quanto riguarda La sicurezza Per gli altri malavidosi Che sappiamo Come in queste zone Vengono prese di mira Le case Per furti In genere Intanto L'amministrazione comunale Ha già consegnato I lavori di manutenzione Straordinaria Della Catanzarello Pennino Ufra La ditte edilizia Due GSRL Di Modica Per un importo complessivo Di 190 mila euro Il termine Per la realizzazione Delle opere Di 90 giorni Dalla consegna Per i primi 700 metri Si opererà Anche un allargamento Della sede stradale E con regimentazione Delle acque La ripavimentazione Riguarda un tratto Di strada esteso Per 1225 metri lineari Per Abate E il suo vice Linguanti Si tratta di un'arteria Molto trafficata Con una densità abitativa E che presenta Un fondo stradale Molto ammalato Che esige Interventi urgenti Per garantire La sicurezza stradale Non solo ai residenti Ma anche agli automobilisti Sei grotte Sei diverse rappresentazioni Della natività Una per ogni continente Il grande presepe Vivente multietnico Allestito All'interno Del centro di riabilitazione Per disabili CSR Aias di Ragusa Sta riscuotendo Grande successo E proprio per questo È stato deciso Di organizzare Un'apertura straordinaria Al pubblico Dell'allestimento L'evento si terrà Lunedì 4 gennaio Dalle 10 alle 12 e 30 Nella struttura di Via Ettore Fiera Mosca 76 A Ragusa L'enorme presepe Vivente multietnico Inaugurato il 17 dicembre È stato interamente Realizzato dagli assistiti Del centro di urne Del centro di riabilitazione Del consorzio siciliano Di riabilitazione Aias di Ragusa Assieme agli operatori Del settore Oltre alla tradizione Sarà anche la musica Ad accompagnare Il presepe vivente Facendo rivivere Le emozioni Di una Sicilia Rurale e genuina Stiamo parlando Del presepe vivente Di Palazzolo A Creide Il talentoso maestro Di Zampogna Antonino Buonasera Accompagnato da chitarra E tamburello Suonerà il primo gennaio 2016 Al presepe vivente Nel quartiere San Michele A Palazzolo A Creide A vivacizzare La sacra rappresentazione Sarà anche Il quartetto Folk I Cumpari Che si esibirà Il 3 gennaio Sarà una serata All'insegna Del divertimento Della musica Del gusto E della voglia Di stare insieme Quella che propongono AIC Sicilia Associazione Italiana Celiachia In collaborazione Con i Petali Del cuore Il prossimo 2 gennaio In occasione Della seconda edizione Del villaggio Delle comete L'evento Previsto Sul ponte Di via Roma A Ragusa Avrà inizio Alle 18.30 Con l'esibizione Del coro Maria Leventre Proprio Nel capoluogo Ibleo A seguire Alle ore 20 Degustazione Dei prodotti Senza glutine Ed animazione Con il gioco A premi L'ultima voce Infine Alle 21.15 Il concerto live Della rock band Gate Hashtag Five Con un altro Modo simpatico Per stare insieme Per salutare L'arrivo Del 2016 Con un serriso Come ribadiscono La presidente regionale Dell'Aiac Sicilia Giuseppina Costa E la referente AIC Gabriella Campo Grande concerto Di Capodanno 2016 Domani sera Alle 20.45 Al Teatro Garibaldi Di Modica Sul palco La civica Fila armonica Della città Che accompagnerà Il pubblico In un'emozionante Atmosfera Di note E suoni Sono 50 Gli strumenti Della civica Diretti dal maestro Francesco Di Pietro Che ripercorreranno I classici intramontabili Di compositori Come Strauss E Verdi Il concerto Vedrà la partecipazione Del soprano Emanuela Sgarlata Che canterà Brani come Mi chiamo Mimì E poi Casta Diva Della Norma Di Bellini L'appuntamento Dunque E per domani Sera Alle 20.45 Al Teatro Garibaldi E come ormai Da tradizione Domani Avrà luogo In Santa Maria Di Betrem La solennità liturgica Della madre di Dio Nel giorno D'inizio anno Alle ore 11 La solenne Celebrazione Eucaristica Alle ore 12 Segue il rito Del patrocinio Nella cappella Palatina Ove Con tre diverse Chiavi d'argento Verrà aperto Lo storico Tevernacolo Che custodisce Al proprio interno La preziosa reliquia Del velo Di Maria Il sindaco Pronuncerà L'atto di consagrazione Della città A Maria La reliquia mariana Verrà esposta Per l'intera giornata Alla venerazione Dei fedeli È davvero tutto Per questa edizione Del nostro telegiornale Non ci rimane Altro che Porvi Da parte Di tutto Il gruppo editoriale Radio e video Mediterraneo Gli auguri Di un buon fine Anno 2015 Ma soprattutto Di un buon inizio 2016 Grazie per averci scelto E arrivederci Alle prossime edizioni Nel 2016 Grazie per averci scelto Grazie per averci scelto